C'è un'Europa che talvolta predica bene e razzola male, c'è un'Europa che ha puntato tutto sull'allargamento e sull'unificazione del vecchio continente, inglobando i Balcani occidentali, guardando alla Turchia, ma c'è un'Europa concreta che invece ha frenato il processo di allargamento che ha smesso di guardare alla Turchia come a una ricchezza del futuro dell'Unione. In questo quadro le regioni, gli enti locali, le comunità hanno costruito reti orizzontali non solo all'interno del vecchio continente, ma anche guardando alle altre sponde del Mediterraneo. Il Mediterraneo è la vocazione dell'Europa, è il destino dell'Europa e allora noi abbiamo fatto di più e meglio mettendo in piedi tante buone pratiche. In questa fase sono più le nuove opportunità o è la difficoltà di questa nuova situazione a pesare sulle dinamiche di collaborazione tra gli enti locali? Quella primavera sicuramente ha segnato il sorgere anche a livello di comunità orizzontali di nuovi pezzi di classe dirigente con le quali è più facile relazionarsi e mettere in piedi percorsi di cooperazione. Purtroppo la primavera araba è capitata nella stagione dell'inverno europeo. La bussola con cui navigare verso il futuro non può essere la paura, non può essere l'idea che la diversità sia una minaccia. Quando la Croazia entra nell'Unione europea noi dobbiamo saper brindare perché si tratta di un arricchimento del progetto che può far vivere questo vecchio continente e dovremmo riprendere a tessere con pazienza la trama delle relazioni con la Turchia che oggi naturalmente sembra aver derubricato la questione dell'adesione all'Unione europea visto che l'Unione europea negli ultimi anni è sembrata aver derubricato la questione dell'adesione della Turchia. Cioè bisogna veramente saper dire a questi nostri stati che faticano a concepirsi come unità politica che non si può avere paura, che bisogna avere coraggio. Bisogna aver paura, come posso dire, della pigrizia culturale o delle piccole logiche identitarie, del ritornante evento cattivo del nazionalismo. Di questo bisogna aver paura. Ma gli Stati Uniti d'Europa con la loro capacità di accogliere, di mescolare lingue, culture, religioni dovrebbero essere davvero un orizzonte di speranza. Grazie a tutti.